PAM 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 Scherzo ovviamente Qui su questo canale si parla ovviamente di Milan-Liverpool Oggi partite di Champions finalmente Con tutto il rispetto Non è che si gioca con la Salernitana Con lo Spezia, con il Venezia Io aspetto sempre la Super League Però so che tanti non sono d'accordo con me E quindi ci andiamo a vedere sta partita di Champions Oggi bisogna crederci Ieri ero incazzato come una Iena E ancora lo sono Però oggi bisogna pensare alla partita Quelli che siamo, siamo Poi da domani torniamo con questa discussione Perché è inutile che ti alleni Fai le tattiche, ti prepari, le giocate E poi c'è un infortunato al giorno Perché è tutto inutile Ieri vedevo il video del mio amico Briga Che saluto Tutto rattristato giustamente Dove è uno degli ultimi Io lo dico da molto prima Io sono arrabbiato da molto prima con questo staff Però oggi bisogna crederci Bisogna pensare alla partita Bisogna andare a vincere Poi In serata stessa Anzi anche prima della partita Si possono licenziare i preparatori Questo Cioè non è che se tu sei arrabbiato con i preparatori Non ci credi alla partita Tu Alla partita ci devi credere per forza E ribadisco Io punto all'Europa League Cioè io voglio vincere stasera Per andare poi a vincere l'Europa League No lo dico perché poi se no mi dite Eh la volpe che non arriva all'Uva No io ve lo dico prima Io punto a vincere l'Europa League Piuttosto che a partecipare in Champions Però Però So chi è contento di arrivare nelle semifinali Così e perdere Io no Non me ne frega niente di perdere Io voglio portare i trofei a casa Comunque stasera bisogna vincere Su questo siamo tutti d'accordo Eh Dicono Dicono che dovrebbe giocare Messias Cosa che io Avevo un po' anticipato Perché Perché ha ragione Il buon Pellegatti Quando dice che Pioli Fa giocare sempre uno Uno Tra Selemeker e Kroenic Non due Uno Perché uno deve spingere E l'altro deve coprire Quindi di solito Nella formazione tipo di Pioli Poi può capitare che li metti tutti e due Perché sappiamo che noi Purtroppo abbiamo 70.000 assenze Quindi se li metti tutti e due Perché è obbligato Ma se può scegliere Se può scegliere Di solito ne mette uno Perché uno dà equilibrio E l'altro deve attaccare Di conseguenza Venendo a mancare le A.O. Tanto non si capisce Quando deve tornare Poi Per favore Vi chiedo solo una cosa Qua nessuno è medico Nessuno è medico Ma anche un bambino Di 12 anni Che ha appena iniziato a calcio Capisce la differenza Tra una contusione Una botta È uno stiramento Non hanno niente Niente Zero Non hanno nessuna Correlazione Qua si parla di correlazioni C'è gente che fa finta Di non vederle Le correlazioni Ecco questo Non ha nessuna Se tu prendi una botta Anche fortissima Non ti fai mai Una lesione muscolare Da stiramento Al massimo ti viene Livido Ti diventa nero Ma non fai Una lesione muscolare Per fare una lesione muscolare C'è uno stiramento Del muscolo Che non ha nulla A che vedere Con una contusione Quindi non spacciamolo Come un infortunio di campo Perché non è così Lo sa pure un bambino Non serve un fisioterapista Ve lo spiega anche un bambino Se non lo sapete Informatevi Qualcuno avrà giocato a calcio No? Vi siete mai stirati Per una botta? Io no Mi stiro Quando fai l'allungo E il muscolo Si stira No quando piene a botta Comunque Ho detto che non le parlavo Però poi Me le tirate Comunque Mancando le ao Messias è fondamentale Cioè non puoi giocare Con Krunic e Selemica C'è bisogno di uno Che ti fa gol Uno che spinge Uno che dà una mano a Ibra Oltre Diaz Quindi per questo Penso e spero Penso e spero Che giochi Messias Perché sicuramente È più offensivo di Selemica A questo punto Hai due soluzioni Facendo giocare Messias Anzi Tre soluzioni Avresti Per far giocare Messias Prima soluzione Metti Messias A sinistra E Pioli Non lo farà Perché Messias Gioca a destra Quindi questa soluzione C'è Questa soluzione Mettetela lì Ma Pioli Non la userà Seconda soluzione Metti Messias A destra E sposti Selemica A sinistra Che era Secondo me La soluzione Nella mia testa Perché Selemica Comunque Il guizzo Ce lo può avere Lo vedo in forma Eccetera 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 E' una soluzione Plausibile Plausibile Ma quella più Accreditata E' appunto Messias A destra E Krunic A sinistra Krunic A sinistra Perché Comunque Giochi contro Il Liverpool Non giochi contro Una squadra Non giochi contro Il Porto Fortissimo Ne abbiamo fatto due pareggi No? Col Porto Poteva anche starci Con Liverpool Secondo me Pioli Metterà Krunic Per Essere ancora più tutelato Perché Krunic Ovviamente Tutela di più Poi anche nella conferenza stampa Di ieri L'ha detto proprio chiaramente No? Ha detto che non vuole dare punti di riferimento Di davanti Vuole Venire A avere la superiorità In mezzo al campo Per poter legare il gioco E poi Parliamoci chiaro Dopo la prestazione Da numero falso nueve Da numero falso nueve Che ha fatto Krunic Con la serietà Ma si merita anche Questa Questa chance Di giocarsi In questo big match Unico piccolo problema Che può nascere Quando Fate una roba del genere Per quelli che Non seguono i dettagli Del Milan È che Il buon Alexis Selemaker È un permanosetto È così Voi dovete conoscere Il carattere dei calciatori Del Milan È fondamentale Quello è un permanosetto Quello Se non gli fai giocare Questa partita Se la prende Si mette il muso Io ve lo dico Vi avviso Perché quello è così Poi deve imparare Ad accettare anche queste cose qua Non è che è Maradona Quindi Nel caso in cui Dovesse partire Krunic Se mette Salemaker Il secondo tempo Vedi di entrare bene Io glielo farei proprio Sto discorso Se fossi Pioli Io se fossi Pioli Conoscendo l'elemento E andrei proprio a parlare Guarda che io faccio Metto prima Krunic Perché lo metto a sinistra E ho bisogno di uno Che mi spinge Di più a destra Farò questa scelta E non ti voglio vedere Col muso Perché il secondo tempo Entri sicuro E quando hai te devi entrare bene Perché punto sugli test Per il secondo tempo Ti voglio vedere bello concentrato Subito glielo devi dire Perché se no poi Se lo vedo entrare male Pazzisco domani sera Con Alexis Perché non deve fare ste robe Ve lo dico prima Io le cose ve le dico prima Ve le dico dopo Dopo sono capaci tutti Comunque Sento sensazioni positive nell'aria Si gioca il giorno di Sant'Ambresa Milano Partita di Cielo Sento un clima Bello Intorno alla squadra Nonostante gli infortuni L'unica cosa Che non vorrei Non è che ci gasiamo Per ste partite di qualificazione Che non servono a nulla E poi ne parliamo Come se fossero Il nostro traguardo Cioè questa È la normalità Iscrivetevi al canale Mettete un like Piccolo appunto Chipstar Casino Per andare a fare le scommesse Scrivetemi su Instagram Che facciamo un gruppo Telegram Per quelli che si registrano È gratuito registrarsi Che facciamo un gruppo Telegram Quando fate l'accredito Con la carta Come volete voi Ci mette qualche minuto Per arrivare il dinero Due tre minuti Quindi Se voi fate Vi da accettata Non li vedete subito Due tre minuti E vi fanno l'accredito E poi si può fare Le scommesse Cavulete 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 Ciao belli Ci vediamo stasera Un po' spartito Ovviamente Un po' spartito Che facciamo un po' spartito